in questo numero del salus tg l'esperto scacco in tre mosse all'artrosi dell'anca lo studio il colesterolo buono hdl diventa cattivo se di origine genetica asportato cancro del seno di 15 chilogrammi eccezionale intervento al gemelli di roma trazione lavaggio e infiltrazione con acido ialuronico sono questi i tre passaggi su cui si basa la nuova tecnica ideata da giuliano cerulli ortopedico di fama mondiale per curare l'artrosi dell'anca una metodica valida tanto per gli over 80 quanto per i giovani che hanno subito un trauma questa metodica che ho definito con un acronimo casli che sta per stretching della capsula cioè allungamento della capsula in modo da eliminare una delle cause principali della produzione del dolore lavaggio si rimuovono i detriti della membrana sinoviale e poi si infiltra l'articolazione con acido ialuronico cortisono in questo modo il soggetto elimina il dolore riprende una buona articolarità e può evitare un intervento di protesi uno studio internazionale condotto da ricercatori statunitensi ha mostrato che quando il colesterolo hdl c è alto per cause genetiche può effettivamente essere negativo una specifica mutazione di un gene che codifica una proteina recettore cellulare che si lega al hdl può infatti impedire che il recettore funzioni a dovere raro ed eccezionale intervento al policlinico gemelli di roma dove è stato asportato un tumore al seno di 15 chili l'intervento è durato circa tre ore e ha consentito la rimozione completa del tumore e la chiusura della ferita senza dover ricorrere a trasferimenti cutanei da altre parti del corpo il decorso post operatorio è andato molto bene la donna una sessantenne lavoratrice è stata dimessa